la stage 3 che ne va a 10 mila avanti un quarto quattro cinque il va a 10 mila avanti un saluto ai ragazzi ai fans di F90 questo canale è fatto con passione siamo qui a Monte Carlo a questo bellissimo show insieme a tante fantastiche auto e speriamo che arrivi tutte queste immagini a voi un saluto, ciao